Conoscerò quando hanno un appuntamento, no? Tutte uguali. Tutte uguali a finanziamento avvenuto. E comincia l'appuntamento. Faticoso lavare i pavimenti, eh? No, con tot verde è così facile che li lavo tutti i giorni. E non risciacqua? No, tot verde non fa mai schiuma. Vede? Nemmeno ho usato puro. Tot verde. Ogni giorno è più facile il pulito. In un tot. Oh no, piuttosto che pulire il forno non lo uso più. Trova Fornet senza soda caustica. Si spruzza senza problemi perché Fornet non irrita la gola. Si lascia agire, una passata, e il forno è pronto. Fornet, forno pulito, fastidio finito. Tu che ami Tonno Rio Mare, provalo con polenta e funghi. Scoprirai che gusto ti dà Rio Mare. Tonno Rio Mare. Buono, sano, tenero. Così tenero che si taglia con un grissino. Cosa posso fare se il freddo mi dà fastidio ai denti? Contro la sensibilità al caldo e al freddo è utile usare un dentifricio antiplacca specifico per denti sensibili. Menta Dente DS antiplacca aiuta a prevenire le cause della sensibilità e con l'uso regolare dà sollievo al fastidio. Menta Dente DS più sollievo a denti sensibili. E questa cos'è? Ginnastica orientale. La circolazione migliora e la mente è più leggera. Hop! I propositi di leggerezza sono i benvenuti. Hanno meno grassi. I benvenuti. I frollini nuovi preparati con lo yogurt. Per darti meno grassi. E un gusto unico. A colazione. Benvenuti i benvenuti. Con lo yogurt meno grassi. Mangia sano. Torna la natura. Con Molino Bianco Barilla. I will be the comeback kid. Good night. And God bless you all. L'America cambia. Ma chi è realmente Clinton? E quale America gli ha detto sì? Empedocle Mafia. Bill Clinton. Una storia americana. Eri. Edizioni Rai. La baritia ti va bene. Ma c'è altro da fare nella vita. Dixon. 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 Già un piatto in nuova formula. Con più sostanze attive. Lava i piatti a fondo. E in poco tempo. E guardate che pulito. Fantastico. Pizza. 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 Perché la vita è più che lavare i piatti. La vita è più che lavare i piatti. E come ci sei arrivato a tutto questo? Con i soldi? Che compromessi? Klaus Jürgen Bussov è stato il protagonista della Clinica della Foresta Nera. Questa volta è un cardiochirurgo. È ricco, è famoso, ma nulla frena la sua ambizione. Il gioco ha queste regole. Non le ho fatte io. E non mi rimane che accettare. Il suo obiettivo è la scalata. Ti avverto. Intendo andare fino in fondo. Fallo. Aspetta solo che ci proviamo. Te lo faccio a me. La scalata. La storia di un'ambizione senza limiti. Un film di Vittorio Sindoni. Prossimamente su Rai 2. Appuntamenti ai quadri, le donne. E si... E si...